Svelati ospiti e date della prossima scuola per genitori di Confartigianato Vicenza. Dopo il successo dell'anno scorso, con il tutto esaurito nelle tre serate al teatro comunale e i numeri da record sui social, torna quindi ad ottobre la scuola per genitori con tre nuove relatrici. Vediamo un breve video promo con qualche estratto della precedente edizione e un'anteprima di quella del 2024. La responsabilità è abile a dare delle risposte. Un ragazzo deve volare. Vogliamo essere costruttori di un futuro per i nostri figli. Noi ce la mettiamo tutta come Confartigianato. Cerchiamo con questa e con altre attività di essere vero attore sociale. E lo scorso anno i biglietti sono andati a ruba, nonostante il tanto anticipo. Vi consigliamo quindi di acquistarli al più presto, approfittando anche della scontistica prevista fino al 31 maggio. Tutte le informazioni e i dettagli sono sul sito confartigianatovicenza.it. Troverete sulla sezione eventi il riquadro dedicato proprio alla scuola per genitori di Confartigianato in Presevicenza.